Signore mio e Dio mio, credo fermamente che sei qui, che mi vedi, che mi ascolti. Ti adoro con profonda riverenza. Ti chiedo perdono dei miei peccati e grazia per fare con frutto questa orazione. Madre mia Immacolata, San Giuseppe, Padre, Signore mio, Angelo mio custode, intercedete per me. Questo è un momento di preghiera personale di ciascuno di noi, di chi è qui in presenza, di chi ci segue da dove può. È anche un momento di preghiera personale, mia. Io non sono qui per recitare una parte, per impartire una lezione. Signore, l'ho appena detto, Signore sei qui, mi vedi, mi ascolti, vedi, ascolti me. Ti ho chiesto perdono dei miei peccati. Ti ho chiesto la grazia di fare con frutto questi trenta minuti di orazione. E allora a me piace sempre mettermi anzitutto in ascolto di te, Gesù. Più che parlarti, voglio che tu mi parli. Che mi parli con quello che hai detto duemila anni fa e con quello che hai fatto in quegli anni in cui sei passato su questa nostra terra, in cui hai condiviso da uomo, fatto uomo, fatto carne, la nostra storia umana. Adesso siedi alla destra del Padre, nell'amore dello Spirito Santo. Continui a, ci mancherebbe pure, no? A essere nella nostra storia. Ma quei poco più di trent'anni che hai trascorso, duemila anni fa, sono decisivi per noi. e l'impegno fino al tuo prossimo ritorno di noi che siamo, tuoi discepoli che ci chiamiamo cristiani e che vogliamo anche essere testimoni di questa fede, confessori, di questa fede, apostoli, di questa fede. Il nostro impegno è di riandare, rimeditare, rientrare in quegli anni facendoli in qualche modo nostri, attualizzandoli nelle circostanze che viviamo. Dopo questa premessa, che però a me sembra importante, voglio valorizzare anzitutto, perché oggi è sabato della terza settimana del tempo ordinario, domani è domenica ed è un'altra settimana. Come sapete la settimana cristiana inizia la domenica, invece io voglio valorizzare oggi, sabato anzitutto, e poi con uno sguardo retrospettivo valorizzare questa parola di Dio che ci è stata donata nelle ultime settimane. E allora oggi, nella messa che ho celebrato proprio qua alle nove stamattina, ho riletto e ho rimeditato questo episodio che viene narrato in termini abbastanza diversi da tutti e quattro gli evangelisti, dai tre sinottici, Matteo, Marco e Luca, e anche nel quarto Vangelo che porta il nome di Giovanni. Gesù che imbarca, attraversa il mare di Galilea, che in realtà è un lago, un grande, relativamente grande lago di acqua dolce. Io ci sono stato, ci ho navigato, qualcuna delle presenti forse anche, sì, almeno una, sì, la vedo qui davanti. E quando è tranquillo, è veramente tranquillo. Però capita che ci si scateni una grande tempesta di vento. E in quell'occasione, mentre le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena, Gesù se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Veramente, questa è un'esperienza che facciamo tante volte, di essere agitati. Dagli venti planetari, come quello di cui tutti parlano, su cui non voglio soffermarmi, ma tutti ne parlano, tutti ci pensano, tutti ne siamo scossi. E poi dagli eventi, diciamo, dei turbamenti, dalle fatiche, dalle angosce, dalle paure quotidiane o periodiche, personali, familiari di ciascuno di noi. E tu, Gesù, dormi. Apparentemente non entri, non ti preoccupi, non ti agiti come noi, è per noi. Allora lo svegliavano e gli dissero, Maestro, non ti importa che siamo perduti. Si destò, minacciò il vento e disse al mare, taci, calmati. Taci, calmati. Quante volte, Signore, penso che con l'agitazione, con la fretta, con le alzate di voce, posso, non dico migliorare, non dico risolvere le cose, ma almeno migliorarle. No. No. La vera forza non sta nel parlare sopra le righe, nel sovrastare nella voce altrui, nel correre più veloce di altri. La forza si esercita nel silenzio, nella calma. Taci, calmati. Il vento cessò, ci fu grande bonaccia. Ed ecco che Gesù impartisce ai discepoli di allora, ma anche a noi, un'altra lezione, no? La prima è questa, che le cose si migliorano e a volte anche si appianano nel silenzio e con la calma. La seconda lezione. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Le paure, le fobie, le ansie. Questi due mila anni che sono trascorsi da allora, tanti si sono presentati sulla scena della storia dicendo con, che ti devo dire, i progressi della scienza medica, con l'educazione universale, con questo, quel sistema politico, ecco, state retta a noi e tutto si risolverà. Non ci saranno più guerre, camperemo fino a cent'anni, che tuttora è da pochi e francamente non invidio ognuno di noi può pensarlo come gli pare, però io non invidio quelli che campano fino a cent'anni, perché sarebbe bello campare fino a cent'anni però con la forza dei venti, invece purtroppo non è così con la salute mentale dei quaranta, diciamo così, o dei sessanta, non buttiamo giù i miei coetanei, purtroppo non è così, purtroppo non è così, insomma tante promesse che sono andate deluse, dobbiamo ammetterlo, certo, tu puoi dire no, ma è solo questione di tempo, no, i primi duemila anni ci abbiamo provato, adesso i prossimi cento risolviamo tutto, abbiamo inventato delle cose magiche che funzionano alla perfezione, ah no, forse proprio, no, però ci siamo avviati, no, verso la perfezione tecnologica, puoi sempre credere in questo, però la risposta che dà Gesù invece è che dobbiamo credere a Lui, cioè avere fede in Lui, in Lui che questi che stanno nella barca si dicono l'un l'altro, chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono, il vento e il mare ti obbediscono, Gesù, ti hanno obbedito, e se lasci che il vento e il mare ci agitino tuttora, il vento, il mare, i virus, i batteri, i funghi, e tutti gli agenti patogeni, forse è perché ci rendiamo conto che da soli non ce la possiamo fare, e con te sì, non che ce la possiamo fare a campare fino a cent'anni con il fisico di venti e il raziocinio dei sessanta, ma che ce la possiamo fare a vivere abbastanza, serenamente e gioiosamente su questa nostra bellissima terra, stamattina ho guardato le previsioni del tempo e dicevano che c'è un'aria ottima a Genova, e diceva pure la goditi l'aria che c'è, per me che vengo da Milano ho detto è un bel consiglio, no? Qualche grado in più di temperatura e sicuramente degli indici di inquinamento migliori. vivere abbastanza serenamente e gioiosamente su questa terra nell'attesa che si compia la beata speranza di una vita beata nei cieli nuovi, nella terra nuova, nella vita eterna. però dobbiamo avere fede in te Gesù. Allora questi uomini che erano nella barca c'era di tutto ma c'erano anche i discepoli di Gesù. forse c'era qualche estraneo ma l'inizio del Vangelo dice venuta la sera Gesù disse ai suoi discepoli passiamo all'altra riva cioè questi erano discepoli eppure non avevano ancora fede eppure ancora non avevano capito chi è costui cui anche il vento e il mare gli obbediscono. Chi erano questi uomini? L'abbiamo letto domenica scorsa o meglio domenica scorsa abbiamo ascoltato la chiamata di quattro di questi primi discepoli Simone e Andrea fratello di Simone pescatori ed esperti di questo mare che a volte si agitava a volte non dava frutto altre volte invece era sereno altre volte riempiva di pesci le loro reti e poi Giacomo e Giovanni un'altra coppia di fratelli figli di Zebedeo anche loro pescatori anzi facenti parte di un'impresa di pesca perché dice che lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni era una ditta di pesca e andavano dietro a lui e di Andrea e Simone che poi verrà chiamato Pietro oppure si dice subito lasciarono le reti e lo seguirono allora quando io leggo questo lo leggo diciamo da persona anche critica no mi domando ma come è possibile cioè come è possibile che questi lasciano tutto così su due piedi e ti vengono dietro Gesù senza avere ancora capito cioè che noi nella professione di fede nella messa festiva diciamo che tu Gesù sei fatto uomo ma che sei Dio da Dio luce da luce Dio vero da Dio vero generato non creato tutte espressioni che sono state elaborate dalla chiesa grazie allo spirito santo nell'arco di qualche secolo no la professione di fede che leggiamo che recitiamo che professiamo nella messa il credo di detto Niceno Costantinopolitano ha avuto la sua formulazione appunto definitiva Nicena 325 Costantinopoli secondo 381 dopo Cristo no questi uomini ti seguono avendo capito qualche cosa ma non ancora tutto allora questa pagina del Vangelo della sequela si capisce quando noi faccio un passo indietro questa era la terza domenica del tempo ordinario andiamo a quello che dice un altro evangelista questo era Marco che inizia praticamente il capitolo primo di Marco inizia così ma il Vangelo secondo Giovanni scritto decenni dopo quello secondo Marco integra e spiega e spiega che questi uomini già ti conoscevano Gesù ti avevano conosciuto su un'altra sponda non di un lago ma di un fiume del fiume Giordano ti avevano conosciuto grazie alla mediazione di Giovanni il Battista infatti il primo capitolo dell'Angelo secondo Giovanni narra che il Battista stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse ecco l'agnello di Dio e i suoi due discepoli sentendolo parlare così seguivano Gesù di questi due si dice subito dopo che uno è Andrea fratello di Simone il quale incontrò per primo suo fratello Simone erano tutte e due in trasferta erano in ferie diciamo avevano lasciato la Galilea che sta a nord della Terra Santa forse non era una stagione buona per la pesca o comunque erano attivati dalla figura del Battista ed erano accorsi da lui e si capisce dal contesto e anche dal testo che erano discepoli del Battista cioè non erano gente capitata lì per curiosità oppure come certi scribi dottori ispettori venuti da Gerusalemme per controllare chi era quest'uomo che non provocasse guai no e che facevano i loro interrogatori ma tu chi sei sei il Cristo cosa dici di te stesso sei il profeta no questi siano affezionati a Giovanni gli credevano e Andrea e l'altro di cui non si dice il nome e non si fa il nome di lui in tutto il quarto vangelo e questo è molto indicativo è la fonte del quarto vangelo però viene sempre indicato come un discepolo o il discepolo che Gesù amava questo messo insieme al fatto che nel quarto vangelo non si fa mai il nome di Giovanni fratello di Giacomo figli di Zebedeo ha portato a credere fondatamente non è un articolo di fede però fondatamente a credere che la fonte del quarto vangelo se non quello che l'ha scritto da cima a fondo sia proprio Giovanni fratello di Giacomo uno dei primi quattro e comunque qui vediamo come attraverso la mediazione di Giovanni il Battista di cui erano discepoli questi uomini già conoscevano te Gesù dalla testimonianza di Giovanni il Battista ecco l'agnello di Dio ecco l'agnello di Dio prima con una formula più completa aveva detto ecco l'agnello di Dio ecco colui che quando parlo delle lingue strane antiche ma è perché non mi piacciono le traduzioni che sono state date oggi avete visto che sono cambiate alcune formule nel messale per adattarle meglio in base così alle riflessioni che fanno i teologi io non oso dichiararmi tale però poi il greco lo conosco e l'ho approfondito non hanno osato cambiare ecco colui cioè è cambiata qualcosa ma hanno lasciato colui che toglie i peccati del mondo ma l'originale da cui è preso che è qui nel primo capitolo di Giovanni non dice che l'agnello di Dio toglie i peccati del mondo se avesse detto questo a me mi avrebbe messo un po' in crisi perché dopo duemila anni i peccati del mondo ci stanno ancora tutti tutti non li ha tolti e invece l'originale dice o Aaron ten amartia amartianna tu colmo che vuol dire colui che si fa carico del peccato al singolare del mondo che è un po' diverso da dire togliere è vero che il verbo aro in greco come tollere in latino vuol dire anche portar via togliere ma ha un significato derivato il primo significato è io mi faccio carico io mi carico sulle spalle io porto porto il peccato al singolare del mondo è chiaro che questa espressione un po' ermetica che usa il battista addita a Gesù che nel mistero pasquale con la sua croce e la sua risurrezione dai morti si è fatto carico ha pagato lui il prezzo del riscatto del peccato del mondo questo vuol dire dopodiché se io mi carico e porto via tolgo anche tolgo tolgo ma lascio lascio a chi non mi dà il suo peccato evidentemente lui può togliere il peccato lui se i peccati concreti di ciascuno di noi tu puoi togliere però tu vuoi che io Gesù te li carichi sulle spalle che me ne libere che me ne sgravi io questi uomini seguirono Gesù anzitutto per la testimonianza del Battista e poi in un dato momento appunto tempo dopo ti seguirono definitivamente Gesù quando ho detto loro lasciate le reti la barca vostro padre la vostra impresa di pesca venite dietro a me vi farò diventare pescatore di uomini allora com'è che Giovanni Battista si era reso conto che tu Gesù eri il Cristo il Messia il Redentore colui che riscattava il mondo dal peccato questo ci viene ricordato nella prima domenica del tempo ordinario sto andando a ritroso per chi non se ne fosse accorto c'è nessuna delle presenti magari qualcuna a casa tra le pentole e il figlio che le chiede mamma dove sta si è distratta sto andando a ritroso nei Vangeli delle domeniche la terza domenica la seconda domenica la prima domenica dell'anno del tempo ordinario ogni anno ha una nota speciale è la domenica in cui commemoriamo il battesimo del Signore Gesù nel fiume Giordano ad opera di Giovanni il Battista e anche quest'anno è stato così la prima domenica dopo l'Epifania è l'inizio del tempo ordinario è lo spartiacque tra il tempo di Natale e il tempo ordinario e la commemorazione del battesimo del Signore è in questo evento che come pure dichiaro Angelo di Giovanni che su questo è molto preciso o meglio integra i dati mancanti nei tre sinotici è lì che il Battista riconosce che quel suo parente Galileo Gesù figlio di Giuseppe e di Maria da Nazareth di mestiere e carpentiere è il Messia è il Cristo è l'agnello di Dio che si fa carico del peccato del mondo uscendo dall'acqua Gesù vide squarciarsi i cieli e lo Spirito di scendere verso di Lui come una colomba e venne una voce dal cielo tu sei il figlio mio l'amato in te ho posto il mio compiacimento Marco è sempre lui che racconta lo vede dalla prospettiva di Gesù Gesù vede lo Spirito che lo consacra per la missione Gesù ascolta la voce del Padre però si capisce che anche il Battista in qualche modo è reso partecipe di questo di questa rivelazione gode di questa teofania come si chiama cioè di una apparizione divina che è una teofania trinitaria lo Spirito Santo sotto l'aspetto di una colomba il Padre che è voce si capisce che è il Padre perché dice nei minuti pochi che mancano mi soffermo su questa espressione tu sei il figlio mio l'amato in te ho posto il mio compiacimento allora qui brevemente poi lo lascio alla vostra considerazione vorrei soffermarmi su questa espressione tu sei il figlio mio l'amato in te ho posto il mio compiacimento è un'espressione curiosa no? qui ci sono delle madri non so se avete mai usato un'espressione del genere verso un figlio o una figlia in te ho posto il mio compiacimento penso di no però il significato di questo vuol dire sono contento di te sono fiero di te va bene così sei un buon figlio allora ogni tanto c'è qualcuno che entra in crisi entra in crisi sui cambiamenti ultimamente appunto nel messale nella liturgia festiva noi per anni abbiamo ripetuto perdonaci signore un po' come pecore di gregge gloria a dio nell'alto dei cieli pace in terra agli uomini di buona volontà e sfido chiunque delle presenti a negarlo ci avevamo in mente che pace in terra agli uomini di buona volontà volesse dire agli uomini che hanno buona volontà no? invece adesso ce ne ho detto che bisogna dire pace entra agli uomini amati dal signore allora qualcuno ha detto ma che c'entra? se ci pensate è una bella differenza dire gli uomini di buona volontà e invece dire gli uomini amati dal signore allora prima ci dicevano che nel battesimo si diventa figli di dio adesso siamo tutti figli di dio siamo tutti fratelli no? è cambiata la fede no non è cambiata la fede è che bisogna sapersi imporre dalla prospettiva giusta perché bisogna leggere i testi originali per capire che qui nel testo originale dice Enzoi Eudokesa che vuol dire in te mi compiaccio cioè mi piace mi piace che tu il figlio di dio luce da luce dio vero da dio vero facendoti uomo ti umili facendoti lavare da una creatura sia pure santa come il battista nelle acque del giotano lavare come se fossi sporco e questa espressione e concludo perché non c'è più tempo però sarebbe interessante approfondire ulteriormente è collegata a un'altra espressione che c'è in Luca che è il canto degli angeli nella notte di Betlemme gli angeli che appaiono ai pastori dicono pace in terra agli uomini tra gli uomini antropois per assicurare quelle che hanno un'ipersensibilità sul tema vuol dire sia uomo che donna per questo non hanno detto pace in terra agli uomini e alle donne cioè in questo caso sono gli uomini e le donne antropos vuol dire uomo e donna in greco pace in terra agli uomini antropois eudochias lì è un sostantivo eudochia qui invece nel battesimo al Giordano è un verbo eudochio ma è la stessa cosa e quindi quando noi adesso diciamo pace agli uomini amati da Dio vogliamo riandare al testo originale che dice pace in terra agli uomini della buona volontà della benevolenza dell'amore della misericordia che sono innanzitutto tuoi o Dio la buona volontà e la benevolenza di Dio verso gli uomini allora noi uomini non abbiamo più niente da fare tutti tutti figli di Dio tutti fratelli tutti ci vogliamo bene e no e no alla buona volontà alla benevolenza a questo amore di Dio c'è bisogno che corrispondiamo ognuno meglio che può con la benevolenza con la buona volontà con la misericordia con l'amore e quindi qui c'è la saldatura tra la buona volontà di Dio e la buona volontà degli uomini e qui c'è il compito che spetta ciascuno di noi siamo figli di Dio ma dobbiamo diventarlo siamo tutti fratelli ma dobbiamo diventarlo con la tua grazia Signore con la tua parola con il pane di cui ci nutriamo continuando a chiederci ma chi è Gesù a che punto è la mia fede a chi sto dando credito sto dando fiducia in chi ripongo la mia speranza qual è lo spessore della mia benevolenza e del mio amore Maria Santissima ci aiuti a continuare a porci le domande e a ottenerci dallo Spirito Santo le risposte giuste ti ringrazio mio Dio dei buoni propositi affetti e ispirazioni che mi hai comunicato in questa orazione ti chiedo aiuto per metterle in pratica madre mia immacolata San Giuseppe Padre Signore mio Angelo mio custode intercedete per me grazie